Ultimo atto della stagione regolare per la Turris impegnata a Liguori contro la Paganese. Gli azzurro stellati si presentano a Torre del Greco senza velletà di classifica, in quanto già certi di disputare il play-out contro la Fidelissandria, con lo svantaggio di dover a tutti i costi vincere contro i Pugliesi per via della peggiore posizione in campionato. Situazione sulla carta estremamente favorevole ai Corallini, impegnati nella corsa gli ultimi posti in zona play-off e quindi assicurarsi un posto negli spareggi promozione che coinvolgono le squadre piazzate fino al decimo posto e che vede al momento la Turris occupare il nono posto a seguito della restituzione al Foggia dei due punti di penalizzazione precedentemente sottratti. Mister Caneo avrà a disposizione tutta la rosa per centrare l'obiettivo che sembrava la portata dopo tre quarti di stagione ma che si è molto complicato con la mancanza dei risultati nelle ultime settimane. Fischio d'inizio domenica alle ore 17.30. Fischio d'inizio domenica alle ore 17.30.